Siamo qui con Simone Romei, autentico protagonista della gara di oggi della Rivarolese, autore di una doppietta, soprattutto di un Euro-goal. Quanto è importante questa vittoria per voi? Ovviamente molto importante, perché stiamo facendo un percorso ormai cominciato da agosto, un percorso non solo dentro il campo ma anche fuori dal campo, perché stiamo diventando sempre più gruppo e questo diciamo che stiamo continuando sulla buona strada. Con la sconfitta della Genova Calcio siete balzati in testa della classifica agganciando la Cagliarese. Diventa il vostro obiettivo il primo posto? Diciamo che da agosto volevamo provarci. Non sarà facile perché ci sono ancora tante partite, tante squadre che ambiscono a questo risultato, tante squadre apprezzate. Una domenica può essere quinto, una domenica può essere primo. È ancora lunga ma noi ce la metteremo tutta.